In tutta la storia delle religioni, tutte le religioni, e non solo le religioni, criticano l'idolo. Sull'idolo il giudizio è unanime, gli idoli vanno abbattuti. Questo è un punto. A mio avviso però questa, diciamo, certezza, che gli idoli sono qualcosa di negativo, anzi, in punto, si dice, tu sei un'idolatra, ma per l'amore del cielo, no? Cioè, non c'è nessuno che si vanta di essere idolatra. Allora, sono tutti d'accordo, studiosi, non studiosi, gente comune, come noi, che l'idolo è qualcosa di negativo, di malvagio. E al tempo stesso, l'idolo è esattamente ciò che l'uomo continuamente costruisce. Continuamente costruisce. E continuamente si consegna all'idolo. Questa è una cosa estremamente interessante. Io qui faccio riferimento a una delle tante genialità di Freud. Quando Freud riconosce che laddove c'è una coazione a ripetere, lì si gioca a qualcosa di essenziale. Cioè, laddove una cosa continua a ritornare, continua a riproporsi, indipendentemente dalla decisione personale, dalla volontà, lì si gioca a qualcosa di essenziale. E per esempio, secondo me, si gioca a qualcosa di essenziale nel fatto che noi continuamente costruiamo idoli, fabbrichiamo idoli. Questo è uno dei caratteri dell'idolo. L'idolo è sempre qualcosa di fabbricato. Noi fabbrichiamo continuamente idoli e continuamente ci consegniamo ad essi. L'idolo è una parte che il soggetto decide, lui, di vivere come il tutto. E queste sono tante cose. Allora, l'idolo per eccellenza è chiaramente il potere. Il detto, scusate, un po' volgare, che è meglio comandare che fare l'amore, non è detto così, ma il senso è quello, è assolutamente una verità. Il potere è l'idolo per eccellenza. E infatti questo ci permetterà di spiegare, farò l'ultimo passaggio che è sorprendente, lo si capisce rispetto al potere, lo si capisce rispetto al potere. Allora, noi continuamente cerchiamo una cosa, a volte inconsciamente, che diventa il nostro tutto. A casa mia, a Milano, io abito a Porta Romana, sono rimasto, ma per dire, sono rimasto, e si è formato un comitato per la valorizzazione di un incrocio. Ma è bellissimo. C'è un incrocio di tre vie, fra l'altro neanche particolarmente, cioè tre piccole vie, si è formato il comitato, ho visto i cosi fuori, con una segreteria, e dice, chi vuole partecipare c'è la riunione settimanale. No, io penso i politici, i poveretti, cioè, siamo qui per la valorizzazione. Poi sapete, tutti noi andiamo alla ricerca di una difesa del taleggio di Fossa, il fringuello della Patagonia, no? Cioè, è questo, tu vai a cercare, e cerchi, appunto, voi dicono, cos'è che facciamo oggi pomeriggio? Facciamo un comitato per la difesa dell'incrocio. Una meraviglia. gente adulta, eh? Cioè, e quando tu senti parlare, e quando tu senti parlare così, e tu ti accorgi della dimensione, della dimensione idolatrica, cioè, della dimensione appunto di quella cosa, che è una cosa, che è una parte, che però diventa il tutto. Ho scritto un libro, ho scritto un libro, eh? ho fatto un quadro, ho scoperto una cosa, capisci? Ero al ristorante con mia moglie nella settimana della moda, adesso a Milano c'è la settimana della moda, perché anche questo è formidabile, come Tommasino. Siamo lì, un ristorante abbastanza bello, non lussuoso, ma medio, insomma. Ero lì, vicino al tavolo, c'erano due della moda, due signori della moda, e io sto andando a mangiare, e in un certo momento uno dice all'altro, ma sai che cosa mi è successo? Ora, tutti parlano ad alta voce, col cellulare, chiaramente io ero lì, e mi sono fermato, ho detto, cosa è successo? Ma dice, ma lo sai, ti ricordi Monica, la signora delle pulizie? E l'altro dice, sì, sai che cosa mi ha fatto? E ancora, io dico, dai, anche perché mi avevo smesso di mangiare, mia moglie, e io dico, dice, ma sai che io, sai che lei mi aveva chiesto da tempo, che voleva un biglietto per andare a vedere una sfilata, ti ricordi? E dice, certo che mi ricordo, ma lo sai che cosa mi ha fatto? Ma sai che io gliel'ho procurato il biglietto? Eh, e gliel'ho dato, lo sai? E sai lei che cosa ha fatto? Ho detto, lo ha dato a sua figlia, capisci? Diceva questo qua, e io dicevo, e allora, io mi immagino Monica, bravissima, voleva andare lei, c'è la figlia, no? E questo qua che dice, ma capisci? Il biglietto per andare a vedere una sfilata, non è mica come un biglietto del cinema, e qui iniziava, uno degli effetti dell'idolo, per quello è interessante il tema del fallo, l'idolo è qualcosa che si costruisce, questo è un tratto, che l'uomo fa, l'altro tratto, l'idolo è ciò che si erge, il fallo, si erge, e appunto, e questo qui continuava a dire, capisci cosa ha fatto? Iniziava ad ergersi, no? Perché normalmente uno dice, vabbè, cosa è successo? Di così grave, no? E dice, capisci? E andate, vi assicuro, non dico 25 minuti, questa povera Monica, cioè con questa roba, e questa cosa è diventato per loro, è diventato piano piano il loro tutto. Perché noi abbiamo così bisogno di questa cosa? Allora, l'uomo idolatra, questa almeno è la mia interpretazione, non perché è cattivo, ma perché l'idolo dà una risposta. E dà una risposta a che cosa? Dà una risposta ha una inquietudine essenziale dell'essere umano. Noi qui, questo è un discorso di assoluta serietà. Io per chiarire questa cosa, un'inquietudine, che non è l'inquietudine del ragazzino di 15 anni, è l'inquietudine che ci caratterizza in quanto gli esseri umani. E perché c'è questa inquietudine? Un'inquietudine essenziale, non legata a certi momenti. La nostra salvezza è che noi nella maggior parte della nostra vita siamo superficiali. E noi non ci accorgiamo. Ma appena tu ti fermi un attimo, appena ti fermi, c'è subito un'inquietudine fondamentale. Questo dico, la lezione di Agostino è una lezione definitiva, è uno degli autori più studiati in tutti i secoli, da tutti, credenti, non credenti, atei, miscredenti. Perché Agostino su questo, su questo ha detto cose fondamentali. Mi permetto di dire, ora questo sarebbe il grande tema, anzi per me questa è la serietà del discorso, del discorso filosofico. non è vero che ciò che noi cerchiamo è soltanto di godere o di possedere. Questa è una visione banale dell'uomo. Non è così. Non è così. E non è così perché? Io penso, adesso la dico così, è chiaro che questo richiederebbe un pochino di te, perché noi siamo abitati, scusate la terminazione, la formulazione è giusta, cioè giusta per me, ma non è caro, noi siamo abitati da un desiderio che non è riducibile al bisogno di qualche cosa. C'è un desiderio umano che non è riducibile al bisogno di qualche cosa. Potremmo dire in questo per esempio la lezione della psicoanalisi di Lacan, uno psicoanalista francese, per me è fondamentale nel Novecento, è uno dei maestri del Novecento. Lacan dice c'è sicuramente una tendenza al godimento, al possesso di una cosa, il godimento nel senso pieno del termine, non solo quello sessuale, al godimento, eppure il soggetto, la parola è giusta, soggetto, che è un passivo, l'uomo è soggetto a un desiderio che non è interpretabile come il bisogno di qualche cosa, di una cosa. Qui farò poi riferimento al consumismo, perché è qui che interviene la genialità del consumismo e la sua perversione. Allora, quindi l'uomo che cosa è che noi tentiamo di fare costantemente, continuamente, a volte inconsapevolmente? Andiamo alla ricerca di un punto d'appoggio che ci dia che ci dia un qualche, io dico che l'idola è questo, per quello noi lo continuiamo a costruire, ci dà momentaneamente un punto d'appoggio e di riposo. Capite che per quelle persone che hanno fatto il comitato per l'incrocio, per un po' questa cosa riempie la giornata, ci sono telefonate, robe, tu scrivi tu il volantino, andiamo dall'assessore, no? Cioè, bello, no? Questi qui che fanno le gite per andare appunto, bellissimo, a mangiare il talleggio di fossa e si alzano alle cinque di mattina lasciando la moglie e i figli, si prendono la bicicletta o la macchina e vanno in una malga che è lì, no? Tre ore e mezzo per arrivare il capì bellissimo, cioè dice cavolo, io vado lì il talleggio di fossa, è fondamentale, per un po' mi appoggio, attenzione, per un po' mi appoggio e per un po' mi riposo, ho scritto un libro e sono un chiarissimo professore, architetto, dottore, biglietti da visita sono spettacolari, meravigliosi, se noi togliessimo dall'università le targhette fuori, l'università crolla, sono le targhette che tengono l'università, ma lo sa tutti questo, ma penso anche alla politica, mi permette, cioè, assessore, primario, è quello che reggono il mondo, lo posso dire anche in modo migliore, è quello che Lacan, geniale, chiama il primato del significante sul significato, geniale, il significante, no? Io sono chiarissimo professore, che poi abbia scritto, pensato, fatto qualcosa, indifferente, intanto, c'è scritto fuori, lo dice anche mio figlio, giustamente, anche se devo dire, faccio un'esperienza bellissima, ma la famiglia è meravigliosa, perché a casa mia, quando io porto, dico, ho comprato un chilo di filetto, provo con una gioia nettamente superiore di quando dico ho scritto un nuovo libro, cioè, bellissimo, cioè, questo è un richiamo all'umiltà totale, cioè, non posso vantarmi di niente, diceva a me papà, invece il filetto dice vai, cioè, è bellissimo questa cosa qua, ci appoggiamo, attenzione però, sto quasi finendo, ma, attenzione però, però, questo è un altro strato, allora, i tre tratti sono, l'idolo è qualcosa che fa l'uomo, decidi tu di fare il comitato sulle tre vie, o di andare lì, o di andare lì, o di la difesa del fringuello, o la cosa, ci siamo, allora, primo, secondo, è qualcosa che si erge, si erge vuol dire che appunto, tu fai il volantino, fai delle cose, cioè, non è una robina, eh, cioè, e il terzo tratto è la sua lucentezza, l'idolo è sempre lucente, ma è bello questo, lucente, luminoso, affascinante, affascinante, Las Vegas, Las Vegas, una convivenza bellissima, fatta da roba, da cose, bellissima, ora, però, l'altro tratto costante del, dell'idolo, qual è? È che l'idolo crolla, l'idolo non dura, l'idolo non dura, può durare abbastanza, ma non dura, poi dopo ti accorgi, ti accorgi, ti accorgi, hai comprato la Ferrari, per un giorno, giri intorno al quartiere, in italiano, c'è il verbo anche in questo, girare così, si chiama pirlare, come un pirla, ma no, ma non è volgare, cioè, fra l'altro, scusate, vediamo se qui siete raffinati, è la prima scena di quel film stratosferico che è di Sofia Coppola, ecco, vedete, sono stato castigato, che è dal, come? Lost in Translation, no, Lost in Translation, cavolo, quello lì, quello che gira con la Ferrari, dopo mi viene, Zommer, Zommer, no, Samuwer, Samuwer, cinque minuti di uno che con la Ferrari gira nel deserto, intorno a un cerchio, meraviglioso, pirla come, tu dopo un po', dopo che hai fatto cinque minuti con la Ferrari, no, non reggi, l'idolo crolla, e qui scatta per me la genialità del consumismo, guardate che il consumismo è una cosa assolutamente da, io sono molto critico con alcuni amici della sinistra, che pensano di poter risolvere il consumismo così, no, come se, sì, lo sfruttamento capitalistico, e no, e no, perché quando crollò il muro dell'Est, quando crollò l'impero sovietico, e chiedevano ai ragazzi polacchi che cosa desideravano, non rispondevano alla democrazia, rispondevano alle discoteche, non si risolve la questione dicendo sfruttamento, è banale così, perché cosa fa il consumismo? Un colpo di genio, il consumismo gioca su due mosse, il consumismo, io devo dire, adesso non ho tempo, c'è stato un capitalismo di tipo industriale, produttivo, oggi siamo nella fase del consumismo, del capitalismo consumistico, e forse siamo anche già un po' sulla fine di questa roba, allora, che cosa succede? Due cose, attraverso la pubblicità continua, il consumismo, il capitalismo consumistico, dice così, tu non sai che cosa desideri, te lo dico io, meraviglioso, cioè la pubblicità propone un sapere laddove c'è un non sapere, e il non sapere è ciò che caratterizza la condizione adulta dell'essere umano, non c'è bisogno di ricordare Socrate, sono sapiente perché so di non sapere, qualsiasi uomo minimamente serio ed umile sa che non sa, appunto, non sai neanche cosa desideri, se ti dicessero appunto costruisci tu la città ideale, non sai cosa fare, poi fai delle cose sbostruose, noi siamo tu, ma il consumismo dice non ti preoccupare, tu non lo sai, te lo dico io, ciò di cui tu hai bisogno, ciò che tu desideri è il nuovo cellulare, attenzione, noi chiaramente ci crediamo, ma qui siamo a livelli stratosferici, qui siamo a livelli, un'azienda ha messo sul mercato, siete pronti? Queste sono le cose, spero vi tornerete a casa con queste cose, ha messo sul mercato un frigorifero con cui tu puoi conoscere e controllare la temperatura del reparto frigo con il tuo cellulare, allora io mi immagino la scena, il tempo fa ero a Catania, l'aereo non partiva, ero lì, c'era una ragazza carina di fronte, ma non mi filava per niente, io ho detto, ma quasi quasi, guardo che temperatura c'è nei broccoli, c'è uno che tira fuori il cellulare e dice, 8 gradi, no troppo, 6, non è spettacolare, ma tu hai un frigorifero che non puoi controllare la temperatura a distanza, ma che uomo sei? e il volante della tua macchina si riscalda, io ovviamente ho una vecchia musa ma sono contentissimo, ma non ci ho mai pensato, dice, se funziona, questo è geniale, e il cellulare che è sottilissimo, che può fare il caffè ad esempio, il phon, il caffè, bellissimo, chiaramente uno compra il cellulare, secondo l'età, quanto ti dura? Un giorno, cinque giorni, a seconda dell'età, e qui riparte, l'idolo cade e il consumismo dice, no ma ce n'è un altro, non è che il cellulare è quello lì che non funziona, il vero modello è il prossimo, è sempre il prossimo, il consumismo dà, io lo definisco così, un'idolatria per le masse a basso costo, mi seguite? In fondo, un cellulare, 300 euro, in fondo, appunto, quella roba lì, Masterchef, c'era la verità, non se ne può più, una cosa, quella lì, adesso in tutte le case, dice il caviale di lumaca, non so, e tu dici, ma tu hai mangiato, vorrei un piatto di spaghetti, no? nei ristoranti, non so, noi l'altro giorno non mi faceva notare che ormai ci vuole circa un dai 20-25 minuti per leggere il menu, no? Perché c'è la descrizione dettagliata, su un letto di lattuga arrostita, con mezzo dentro un po' di senape, con sopra di ecco, e dice, no? E certo, tu la roba, il mondo è fantastico, ci siamo? E il consumismo fa così, dice, non ti preoccupare, tu adesso sei ancora un po', non sei contento, non ti preoccupare, ti do questo, te ne do ancora un altro, te ne darò ancora un altro, infinito, all'infinito, all'infinito. Ora, cosa c'è che non va in questa cosa? Che uno potrebbe dire, e vabbè, allora, andiamo avanti così, dov'è il male? No, c'è il male, e il male è questo, è che intorno ad un idolo si raccoglie sempre una scena di distruzione, distruzione delle robe, cioè appunto questo consumismo compulsivo, per cui tu cambia una roba nuova, ma ne compri un'altra, non hai assolutamente bisogno, ma un bisogno compulsivo, distruzione, distruttivo dei rapporti. In pizzeria, vicino a casa mia, in pizzeria, a volte cammino, e tu vedi questa scena della coppia, di due, due coppie, ragazzi e ragazze, ognuno che guarda il suo cellulare, e quando non guardano il cellulare, i maschi guardano la partita. c'è una meraviglia, ecco perché appunto poi uno dice fucco fecondatore, cioè, tutti isolati, poi adesso i ragazzi si mettono le cose nell'orecchio, no? Cioè, distruttivo delle relazioni, distruttivo delle relazioni, distruttivo della natura, delle cose, e qui arriviamo al punto ultimo, distruttivo di sé. E perché? Avevo detto, ancora cinque minuti ce la fate? Cioè, non voglio scocciarvi, ma questo è bellissimo, avevo detto che l'idolo maggiore è il potere, il potere, bello, il potere, bellissimo, io con la mia segretaria, un caffè, bellissimo, che godimento totale, e lei me lo porta, senza parlare, bello, bello, tu comandi, Chiaramente nel fare l'esperienza del potere tu tenti di fare una cosa, adesso la dico con termini forse giusti, già per me giusti, cerchi di fare un'esperienza di pienezza, di tutto, un'esperienza di pienezza, riuscire appunto quel buco lì a colmarlo, io comando, questo, 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 tra l'altro questo viene, è evidente per esempio nel rapporto tra genitori e figli, cioè spesso noi sbandiamo come genitori esattamente a questo punto qui, no? Cioè, il problema per noi è di essere obbediti, ma quando un genitore vuole essere obbedito deve andare dall'analista, eh, quando appunto dici, ma come, io sono tuo padre, è appunto, gli dici, si vede, il mistero della nostra crescita è che i nostri figli diventano uomini nonostante noi, cioè, questo è il mistero, nonostante i genitori i ragazzi diventano bravi, studiano, meravigliosi, perché si vedono come fai tu, cioè appunto, qui, di là, sopra, sopra, ci siamo? Il potere, soltanto che, siccome il potere tu non riesci a possedere tutto, attenzione, siccome non riesci a possedere tutto, allora alla fine decidi di farti possedere tutto, non so se è chiaro, adesso lo dico meglio, di fronte al fatto che non riesci a possedere tutto, che è evidente, alla fine l'ultima tentazione idolatrica, diabolica, è che quindi tu ti inverti e cerchi di fare un'esperienza di pienezza non nel possedere tutto, ma nel farti tutto possedere, c'è stata una figura stratosferica su questo, Eichmann, io non l'avrei mai e poi mai impiccato, io Eichmann l'avrei portato in giro nelle scuole dicendo Eichmann parla, meraviglioso Eichmann, cioè, meraviglioso, un'ottusità totale, fermo, Eichmann diceva ma lei, Eichmann diceva ma no, io lo sterminio di massa, ma no, io ero addetto al trasporto, non è forte, bellissimo, io li portavo fino a lì, e ma quello dice ma di là sapeva, dice no, ma cosa c'entra? io no, non sapevo, cioè io, è la burocrate, bellissimo, e poi non gli ho detto ma c'erano i boia nei campi di concentramento, boia, mi porti un documento con scritto boia, c'è scritto assistenti sanitari, e guardate che questa cosa ritorna, questa cosa ritorna, ma assistente sanitario, la dolce morte, tutte quelle robe lì, Ma non è questa la cosa che a me ha colpito di Eichmann, a me di Eichmann ha colpito questa dichiarazione, perché è questo, è l'idolo, ha detto io nella mia vita ero un uomo ambizioso, volevo fare qualcosa di grande, ma poi mi sono accorto di non essere un grande, bellissimo, un atto di umiltà, e allora ho pensato come posso fare qualcosa di grande non essendo un grande, consegnandomi totalmente a qualcuno che è grande, e ho avuto la fortuna di incontrare Hitler, mi seguite? Si consegna totalmente, si consegna totalmente, quando per esempio ci si consegna totalmente ad una causa, anche nobile, anche nobile, ma quando ci si consegna totalmente, quando si vuole raggiungere un fine ad ogni costo, voi sapete che questo è il problema, noi dobbiamo essere determinati, non ostinati, dobbiamo dire ai nostri ragazzi di essere determinati, non ostinati, non ad ogni costo, non ad ogni costo, per esempio non a costo della vita, tu hai altrui, e se quindi tu vuoi essere magro, non ad ogni costo, l'esempio del magro lo faccio per la ragazza, la peruviana, la modella peruviana, vi ricordate? Modella peruviana, morta, 38 chili e dicevano, i medici dicevano alle amiche, ma scusate, ma voi non glielo dicevate? Ma no, glielo dicevamo, ma lei diceva, attenzione, si guardava allo specchio 38 chili e diceva, non vedete? Non vedete come sono grassa, non ad ogni costo, e noi che stiamo educando i figli all'eccellenza, a quelle ben nate lì, a essere i migliori, no? li stiamo distruggendo, non ad ogni costo, perché alla fine cosa succederà? Che chiaramente, finisco con questa storiella, che chiaramente cosa succede? Quando tu poi ti accorgi che cosa fai? Alla fine dice, beh, mi consegno, c'è a Scampia, c'è un sacerdote che ha fatto un campo, cioè, ha aperto l'oratorio e fa il torneo di calcio, mi seguite? Attenzione, torneo di calcio, bravissimo, faccio il torneo di calcio, così chiamo i ragazzi, giusto? Giusto. E io pensavo a questo sacerdote che compito enorme che lui ha, perché lui deve lavorare su due fronti, allora lui deve lavorare, sul primo fronte deve dire ai ragazzi, ai bambini, venite, che magari sei Maradona, no? Giusto. Tant'è, ho fatto l'intervista a un bambino e il bambino diceva, no, io vedo la maglietta di Maradona, vengo qui in oratorio a giocare tutti i giorni, perché a me piace il calcio, certo, quindi devi dire al bambino, vieni in qui, non stare per strada, che così giochiamo, magari sei Maradona, ma poi cos'è che dovrà dire, e questo è estremamente più difficile, cos'è che dovrà dire? Dovrà dire, guarda però, che c'è una cosa molto più importante di diventare Maradona e di diventare te stesso, perché se non farà questo passaggio, e questo è difficilissimo, difficilissimo, cosa succederà? Che quando il bambino si accorgerà di non essere Maradona, perché di Maradona ne viene uno ogni cento anni, sarà avvicinato da qualcuno che gli dirà così, guarda, tu non sei come Maradona, è evidente, però puoi vivere come Maradona, per esempio facendo il killer, chiaro? Questo doppio lavoro, Maradona è l'elemento di fallizzazione, adesso ci siamo, c'è il tuo, oh, dice Maradona, e al tempo stesso devi dire, al tempo stesso, double bind, completamente, al tempo stesso devi dire, guarda, c'è qualcos'altro, c'è qualcos'altro, difficilissimo, l'idolo è questo, l'idolo è, quando tu dalla determinazione passi all'ostilazione, tu, ti distruggi, non distruggi solo le cose intorno, distruggi te, ti distruggi, ti distruggi, e da questo punto di vista, io penso che l'insegnamento profondo del testo biblico, nel divieto dell'idolo, non sia come a volte si dice, nei bar, che quando Dio dice, non idolatrare, sembra che il Dio biblico dica, guarda che il vero Dio sono io, come Armani, Sarebbe come Armani, dire guarda, Armani vero sono io, l'altra roba è tutta roba tarroccata, no? Ora devo dire che questa interpretazione, che Dio difende il suo primato, è risibile, è ridicola, perché noi su Dio non sappiamo niente, ma una cosa la sappiamo, che non è un narciso, almeno lui, quando Dio parla, nella Bibbia, non difende mai se stesso, mai se stesso, quando Dio parla, nella Bibbia almeno, sta difendendo l'uomo, e quando dice, stai attento a idolatrare, non idolatrare, secondo me sta dicendo questo, che se tu ti consegni all'idolo, alla fine ti distruggerai come uomo, come soggetto, resta in piedi, anche con la tua inquietudine, anche con la tua inquietudine, l'inquietudine, non è un'obiezione, è una condizione, e anzi, è un elemento, di grande nobiltà dell'umano, stai in piedi, non ti chinare, non ti consegnare, stai in piedi, con la tua inquietudine, ma stai in piedi, bellissimo, grazie.